2022 ora al di là dei controlli con appunto delle centraline che vadano a provvedere in tal senso io sto respirando aria acre che ti entra nella bocca e te la lascia amara pastosa quindi si respira un'aria schifosa ok a me non interessa del controllo con una centralina perché io ho diritto a respirare aria pulita pulita e invece io respiro respiro un qualche cosa che mi entra nella bocca e me la lascia con un sapore aspro amaro a di acredine e non è giusto questo non è giusto io ho il diritto sacrosanto a respirare non 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 Sì, 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 sì.